La lavatrice ti ha abbandonato? L'ultima bolletta della luce ti ha prosciugato il conto? Confondi l'ammorbidente con la candeggina? Lo stendino invade il tuo bagno? Non sai come lavare la cuccia del tuo cane? Finalmente per te la notizia che aspettavi. La più bella lavanderia del mondo è arrivata a Voghera. Speed Queen ti offre una qualità leggendaria in ambienti eleganti e moderni, dotati delle migliori lavatrici e asciugabiancheria sul mercato. Utilizziamo solo detergenti vegetali ed ipoallergenici e ti assicuriamo lavaggi in tempi record, asciugatura inclusa. Ti aspettiamo tutti i giorni a Voghera, dalle 6 alle 22 in via Fratelli Rosselli 139. Speed Queen, lasciati travolgere da una nuova storia d'amore con la lavanderia self-service numero 1 al mondo.